ciao a tutti ci troviamo a san francisco Siamo da Giogelati, 1998 Union Street Giogelati, perché Giogelati? Gelato italiano originale è questa la chiave di lettura più importante, più interessante, più frizzante di questa nostra grandissima avventura Perché originale? Perché abbiamo voluto portare in questa meravigliosa terra che è San Francisco un gelato particolarmente italiano, perché italiano? Perché è fatto con un know-how italiano know-how della famiglia Pasqualetti, appunto, di una famiglia che da 40 anni fa ricerca del gelato Un gelato che possiamo raccontare, perché lo facciamo insieme in laboratorio, dalla selezione delle materie prime dalla scelta proprio di cosa presentare quotidianamente nel banco Giogelati nasce con una meravigliosa filosofia, lavorare i frutti della terra che ci ospita, quindi la California Abbiamo dei meravigliosi lamponi, della frutta di stagione colorata, saporita Ma il nostro know-how è anche la condivisione, noi vogliamo condividere questa avventura con chi apprezza la nostra avventura, il nostro modo di vivere, il nostro modo di interpretare il gelato Naturalmente vi aspettiamo ad assaggiare la mandorla tostata, il gelato di avocado, piuttosto che appunto di lampone amarene, fior di latte, crema di nocciole, crema di cioccolato e ciò non toglie che alcuni ingredienti come il pistacchio provengono dalla nostra meravigliosa terra San Francisco, il luogo dei gelati, perché non portare anche quella che è la terza generazione di un gelato così artigianale e così importante? E quindi eccomi qua, ecco la terza generazione Corrado, sono la terza generazione e la nostra famiglia sono 45 anni che produce gelato nel territorio italiano nel territorio umbro di Orvieto e abbiamo deciso di portare questa tradizione oltreoceano e arrivare a San Francisco, terra californiana, terra di conquista e da qui speriamo di poter avere il nostro successo con spiegare cosa intendiamo per gelato italiano originale Il nostro gelato lo troverete profumato, lo troverete gustoso, lo troverete cremoso colorato, colorato con quelli che sono i colori che la natura ci offre Vi aspettiamo con gioia per condividere una parte della nostra esperienza una parte di quella che è stata la nostra vita e che sarà la nostra mission il gelato artigianale negli Stati Uniti Gio Gelati, gelato italiano originale Gio Gelati, gelato italiano Gio Gelati, gelato italiano